Ciao, sono Sara e vi faccio questo video per raccontarvi la mia esperienza con Nicola. Nicola mi segue da 4 mesi sia nell'alimentazione che negli esercizi a casa. Inizialmente ho contattato Nicola perché due anni fa ho avuto una bambina e giustamente il mio corpo, essendo cambiato, non mi faceva più stare bene con me stessa, non mi sentivo a mio agio. Avevo cercato inizialmente di fare da sola, ottenere i risultati che volevo andando a correre 3-4 volte a settimana e seguire un'alimentazione sana, ma non riuscivo a vedere grandi risultati. Per questo 4 mesi qua ho deciso di contattare Nicola e subito dopo un mese ho visto grandi risultati. Avevo iniziato già a perdere chili e centimetri, ma soprattutto avevo riacquistato già dopo un mese più fiducia in me stessa e riuscivo a vedermi bene allo specchio. Adesso non è più solo una questione di mettersi in forma, ma è diventato proprio un mio stile di vita, perché inizialmente volevo allenarmi solo 3 volte a settimana, invece adesso mi eleno anche 5-6 volte. Non riesco a farne a meno perché sento che mi fa sentire bene. Nicola si è sempre disponibile, mi dà sempre la carica giusta e sono sicura che nei prossimi mesi otterremo grandi risultati insieme. Ciao!